Buongiorno Ma è vero? Sì, ma se non è Anche loro siamo Come le due Dacci guarda Ciao Ehi Ciao 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 Come agire? Tutto ok? Tutto a punto Bene Voi avete sentito di Mark Yadish Non ho fatto un trucco No Ho saputo che anche loro erano in discoteca Poi Sembra che siano stati arrestati perché si lasciavano in un luogo pubblico E ci pensate solo per un bacio E' un rivine, guarda niente assolutamente Bene La norma è così La gente li ha visti che si lasciavano e li hanno portati via Quindi è meglio che facciate attenzione Schepetto Oh Non lo vorrei Sparne 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 Buongiorno Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.